Certo, lo puoi presentare a modo tuo, hai qualche personaggio? Sì, non so, potrei presentarlo con Gianni Morandi Sì, perfetto Il video, ha un video adesso, lui deve rilanciargli il video Ma dai, ciao ragazzi, stiamo uniti, dai Stiamo uniti e adesso abbiamo questo grande, grande artista che l'ho scoperto io, dai A Bologna, si chiama Marco Fogli, cantautore Già il nome, Marco Fogli, cioè Marco i Fogli Ecco, dai, dai Attenzione, Tex Tex, o Marco Fogli, uguale Tu come lo chiami? Io lo chiamo Marco, tra amici Marco Come vedete oggi c'è anche lui, c'è Simone Che ho invitato anche nel salotto, mi devono dare solo la data Mi devono dare solo la data, perché Simone è un grande imitatore che tutti voi conoscete È un personaggio che, io amo Mr. Bean, come fai tu Presentalo Allora oggi, aspetta che mi metto bene Signori, dai, like it Oggi abbiamo un personaggio che aveva fatto perdere traccia di sé, ma è tornato Solo per noi abbiamo Mr. Bean Sì, Mr. Bean, lei è un personaggio che mi piace moltissimo Molto particolare, troppo particolare No, comunque lui è Simone Merini che lo trovate in social, lo trovate ovunque, io lo vedo sempre ovunque Eh, non stai mai a casa Ma infatti, sono più fuori che Cioè fuori Di tutto I miei amici lo sanno Più fuori di così Quindi lui è molto fuori e poco in casa Comunque Simone Merini lo conoscete già, è inutile che io stia raccontare Che progetti abbiamo in questo periodo? Basta, facciamo prima, andate sulla mia pagina di Facebook, Simone Merini, pagina ufficiale Vedete sempre aggiornate le locandine, gli eventi dove sono insomma Ah, perfetto Molto social Sei social? No, infatti i miei amici dicono social Social? Simone, non ne possiamo più Social, non social Social Ma Simone, io noto una mano lì Sì, no La mano era quella di Morandi Però, forse noti anche degli occhiali Forse noto anche gli occhiali, certo Oh, se prego che li farò Mi faccio un saluto del paradiso È talmente bianco, bello Tutto bianco, tante nuvole Oh, mi sembra di essere alle nozze di canna Di canna E quindi si trova bene Eh, beh, chiaro